Clarissa, cosa ci consigli di fare oggi a Grosseto? Buongiorno, siete mai stati al nuovo museo collezione Giafranco Luzzetti? Ci sono opere del Rossellino, Giambologna, Cigoli, Rutilio Manetti, Santi di Tito e tanti altri. Oppure potete visitare il Museo di Storia Naturale della Mareffa, dove potrete scoprire le bellezze di questa terra. Sottoscrivendo la nuova tessera Grosseto Card avrete vantaggi incredibili, come l'ingresso gratuito ai musei convenzionati, sconti a concerti, corsi d'arte, spettacoli teatrali, cinema, attività sportive e negozi. Sul sito Fondazione trovate tutte le informazioni.